Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata. Oggi parliamo del più grande fallimento dell'orologeria, ovvero lo scappamento coassiale dal punto di vista del suo inventore che è George Daniels. George Daniels è considerato il più grande orologiaio degli ultimi 250 anni. Nasce nel 1926 in Inghilterra da una madre che non è neanche sposata e poi successivamente si sposerà con un uomo che preferisce piuttosto bere che lavorare, per cui in una situazione di estrema povertà considerate che in casa sua mancava anche il cibo nonché le sedie proprio per sedersi. Questa è la situazione nella quale lui si scimenta con l'orologeria. Trovava questi orologi nelle case abbandonate di Londra e cominciò proprio a smontarli, a cercare insomma di ripararli. Qualche volta ce la faceva, qualche volta non ce la faceva, soprattutto erano orologi da muro americani. Ora uno di questi tra l'altro lo portò a casa, poi a un certo punto nel mentre che prendeva il tè con i suoi genitori, a un certo punto scoppiò questo orologio, andò appunto in frantumi. Ecco, qui siamo all'incirca, lui ha circa 9-10 anni, per cui naturalmente è giovanissimo, non ha avuto nessun maestro, ha fatto tutto da autodidatta, anzi si è costruito proprio degli strumenti così, molto rudimentali. Si sparge un po' anche la voce nel suo quartiere che lui può riparare degli orologi, qualche orologio riesce a ripararlo, qualcuno non ci riesce, per cui quando il cliente dell'orologio che lui non è riuscito a ripararlo, naturalmente quando gli viene chiesto questi orologi indietro, per cui lui non essendo in grado di ridarglilo, si nasconde, per cui prende strade traverse proprio per non incontrare questo cliente, perché ormai l'orologio è tutto naturalmente in pezzi e lui non è più in grado di rimetterlo insieme. Questa è la situazione fino ad arrivare al 1944 dove entra nell'esercito, anche lì c'è un po' la voce, si sparge che lui è in grado di riparare gli orologi, per cui i suoi commilitoni li affidano proprio gli orologi per essere riparati. Proprio tra l'altro lui va in Africa, quando lui rientra tramite un collegamento che aveva allacciato un'amicizia, comincia a lavorare quando rientra in Inghilterra per un riparatore di orologi. Allo stesso tempo va anche a lezioni, prende le prime lezioni serali proprio di orologeria, perché fino a quel punto lì, è il 1947, lui ancora non ha preso mai una lezione da nessun maestro. Dal 1947 lui lavora sempre e studia e si applica proprio agli orologi Breguet, che praticamente erano il massimo dell'orologeria e diventerà famosissimo proprio nella riparazione di questi orologi, tant'è che entra in contatto proprio con l'azienda di Breguet e nel 1960 apre proprio un negozio, un negozio finalmente si mette in proprio. Nel 1969, quindi ci vorranno dieci anni, lui riesce a costruire il primo orologio fatto interamente a mano da lui. Inizialmente aveva costruito soltanto il movimento, poi si affidava, si sarebbe affidato a un fabbricante di casse, uno che comunque faceva casse a mano, li portò proprio anche il movimento e aveva anche stabilito insomma un prezzo per la cassa, però questo orologiaio, un orologiaio anche anziano, non se la sentiva di fare questa cassa, forse era troppo bello il movimento, forse non si sentiva all'altezza, non lo sappiamo per certo. A un certo punto però passavano i mesi e George Daniels fa un accordo con lui, diceva bene allora lo facciamo insieme, però io non ho un'idea di come si fanno le casse, te mi insegni, io utilizzo le tue macchine, mi insegni proprio ad utilizzare gli utensili e io ti pago un tanto all'ora. In quel modo lì riesce George Daniels con l'aiuto di questo orologiaio molto anziano, riesce a costruire la cassa, per cui lui naturalmente è felicissimo di aver costruito il suo primo orologio e questo orologio tra l'altro passerà di mano, lo venderà per circa 2000 sterline, poi lo ricomprerà, insomma alla fine lo venderà per 280 mila sterline, per cui anche lì ci farà un guadagno, insomma un guadagno esagerato. Nel 1974 lui dopo una serie di frustrazioni legate proprio al mondo del quarzo, lui considera, ecco, le persone che costruiscono, che realizzano il quarzo, li chiama elettricisti, ma insomma proprio un termine per lui dispregiativo, non li considera neanche orologiai, proprio perché lui capisce che il quarzo con le sue prestazioni intuisce che soppianterà quello che è l'orologeria tradizionale meccanica, per cui si mette in testa di voler costruire un orologio che sia così performante, da superare anche quelle che sono le performance degli orologi al quarzo, considerate che il quarzo all'epoca non aveva le performance che sono riusciti poi successivamente ad avere. E questo, questo fatto, lui riuscirà anche a conseguire questo risultato, riuscirà a costruire anche degli orologi che sono precisi meno o più un secondo, cioè che perdano veramente pochissimo e che superano anche il quarzo come precisione, naturalmente il quarzo di quell'epoca lì, ma soltanto per quanto riguarda lo scappamento artigianale che lui riesce a costruire. Ora, dobbiamo dire che lo scappamento coassiale non è stato costruito interamente o ideato interamente da lui, qualche cosa, una specie di scappamento coassiale esisteva già in orologeria, ma sicuramente non era uno scappamento coassiale che potesse stare dentro un orologio da polso. Lui lo realizzò, tra l'altro utilizzò proprio un Omega, proprio così anche per presentarlo, insomma, alle aziende, tra l'altro, tra gli altri orologi. Comunque il primo fu nel 1974, tra l'altro fu presentato anche a Patek Philippe, che però non fu entusiasmata, non ci credette, ecco, o quantomé o forse fu spaventata dal costo che ci sarebbe voluto per industrializzare quello scappamento lì, fatto sta che non se ne fece di nulla. Nel 1980 lui lo brevettò e poi, la storia la sapete tutti, entrò in collegamento con Omega, soprattutto con Eich il Vecchio, che è un grandissimo imprenditore, anche se poi non nasce nel mondo dell'orologeria, ma intravide proprio quello che poteva essere, un qualcosa di diverso, un qualcosa che avrebbe potuto rivoluzionare l'orologeria svizzera, per cui accettò di industrializzare questo scappamento. Ora va detto, e questo è un fatto abbastanza risaputo, che nel momento in cui lui vendette il brevetto praticamente a Omega, più che altro chi si occupò di industrializzare da un punto di vista proprio concettuale, non da un punto di vista fattivo, perché naturalmente c'era Eta da parte del gruppo Swatch che pensava a industrializzarlo, ma da un punto di vista di concetto fu il suo figliastro, appunto Roger Smith. Roger Smith era un ragazzo che da giovanissimo anche lui si era appassionato da autodidatta proprio all'orologeria ed era riuscito a costruire, utilizzando pezzi di altri orologi, cioè di orologi differenti, era riuscito a costruire un orologio. Glielo aveva portato, ora George Daniels sicuramente non era una delle persone più solari, non era una delle persone con un miglior carattere, per cui gli disse guarda l'orologio non è un granché perché appunto il Roger Smith avrebbe voluto andare a studiare da George Daniels che lo considerava insomma un po' il deus ex machina dell'orologeria moderna e di fatto lo era, ma George Daniels rifiutò, gli disse guarda sì va bene hai fatto questo orologio con pezzi che hai trovato però non è abbastanza, ecco se l'avessero detto a un ragazzo di oggi avrebbe fatto sicuramente un video su internet e si sarebbe messo a piangere, mentre invece George Daniels cosa fece? Ne fece un altro, fece un altro orologio, a quel punto lì si convinse che il ragazzo insomma era tenace, aveva passione proprio per lo studio dell'orologeria per cui lo prese con sé e iniziarono appunto a costruire orologi anche insieme. Ecco considerate che più o meno noi lo sappiamo di preciso, però George Daniels ha realizzato dai 40 ai 50 pezzi orologi tutti da solo, per cui quelli sono il non plus ultra perché sono stati realizzati da lui e 50 altri orologi sono stati realizzati in collaborazione con Roger Smith. Altri particolari che devono essere annotati è che George Daniels non era soltanto un bravissimo orologiaio, nel senso che riusciva proprio da un punto di vista della meccanica a costruire questi bellissimi orologi con queste complicazioni, non solo questo ma era anche un uomo di design, per cui lui partiva dal quadrante, prima disegnava il quadrante come gli piaceva a lui, infatti sono bellissimi gli orologi proprio di George Daniels e poi ci costruiva sotto il movimento, per cui ecco considerate anche la complessità delle opere di George Daniels. Poi nel 1981 tra l'altro scrive un libro, poi ne seguiranno altri cinque che sono The Watchmaking, che è un libro dove praticamente spiega come riuscire a diventare orologiai, lo stesso libro che ispirò poi successivamente Asaoka in Giappone, il quale poi diventerà un orologiaio, ecco questo solo per dirvi la grandezza di George Daniels. Poi nel 2011 morirà, nel 2012 è stata venduta parte della sua collezione, hanno fatto 8 milioni di sterline, insomma un pezzo è arrivato a più di un milione, poi dopo è stato rivenduto a 3 milioni, insomma sono gli orologi di George Daniels e sono inestimabili. Ecco questi sono veramente gli orologi dove c'è l'investimento, dove bisognerebbe investire. Allora il titolo di questo video è proprio il fatto del fallimento dell'orologeria dello scappamento coassiale. Direte voi ma allora perché lo scappamento coassiale ha fallito? Ha fallito perché George Daniels credeva che con quell'invenzione lì sarebbe riuscito a superare le prestazioni di un quarzo, ovvero lui voleva costruire un orologio che non avrebbe avuto bisogno di manutenzione per almeno 15 anni perché avrebbe bisogno di meno olio, poi un pochino di olio comunque sia ne ha bisogno anche se poi la frizione dello scappamento è minore. E questo è stato un fallimento, non solo perché non sono riusciti industrialmente a rifare un orologio che avesse le prestazioni di quello artigianale. Voi direte ma sì ma però se per esempio prendiamo gli Omega con scappamento coassiale hanno per esempio la certificazione Metas che comunque è una certificazione buona con molto restrittiva, con dei paletti molto stringenti e questo è sicuramente vero ma è anche vero che lì abbiamo del silicio, abbiamo delle componenti, abbiamo delle molle esagerate, cioè abbiamo una qualità costruttiva totale generale dell'orologio che con quelle caratteristiche saremo arrivati a quelle prestazioni anche con uno scappamento tradizionale, non ci sarebbe stato il bisogno ecco dello scappamento coassiale. Ora va detto che da un punto di vista commerciale e proprio dell'orologeria non è stato un fallimento, è stato un fallimento secondo la visione, per la visione che si proponeva George Daniels, ovvero di rivoluzionare, di surclassare il quarzo. Questo non è avvenuto come prestazioni, assolutamente. Invece da un punto di vista delle vendite sicuramente lo scappamento coassiale, sebbene abbia necessitato di investimenti enormi da parte di un gruppo, il gruppo Swatch, per cui ci volevano grandissimi capitali, dati soprattutto, come abbiamo visto negli altri video, dallo Swatch stesso che portò una liquidità enorme, ci voleva insomma un'enormità di soldi e ci voleva anche la presenza di un grandissimo imprenditore che è Heike, Heike il Vecchio, fino a che Heike il Vecchio non è morto, tutti, tutti nell'orologeria svizzera erano d'accordo che lui era stato il salvatore, naturalmente insieme anche a Rolex, di tutta l'orologeria tradizionale, tradizionale meccanica. Inoltre, ecco concludo, insomma, lui è stato anche un amante delle auto, ha avuto durante insomma la sua la sua vita, ha comprato delle Bentley usate, nelle quali, che poi riparava, stessa passione che tra l'altro anche Roger Smith, anche lui ripara auto così come passione, da lui insomma con le sue proprie mani, la stessa cosa faceva anche George Daniels e tra l'altro comprava una macchina e poi dopo la riparava, la rifaceva e poi la rivendeva a più di quello che l'aveva comprata. Ecco, tra le tante Bentley che lui ha avuto, ecco, nomino anche, faccio presente anche un Alfa Romeo particolare del 1932 che era appartenuta al nostro Italo Balbo. Io spero insomma con questo video di avervi dato un'infarinatura, anche aver dato qualche cenno storico di George Daniels e come sempre se questo video vi è piaciuto mettete un like, se lo ritenete opportuno iscrivetevi al canale, noi ci vediamo alla prossima puntata, ciao a tutti!